E ragazzi io sono Feriniki E io sono Stef E che sto cercando a mini time Un gioco dove dato che mini è time, time è tempo Non abbiamo tempo Ah ecco il senso Esatto Ho capito Dovrebbe essere così Ci sono dei mini giochi Io non lo conosco Un sacco di mini giochi Bisogna riuscire a completarli con pochissimo tempo E magari io Ferri ci studiamo un po' Vediamo un pochettino come fare Li proviamo, ci divertiamo In ogni caso Grazie mille per aver supportato gli scorsi video Dove siamo uno a fianco all'altro con questo tipo di giochini A noi ci piace un sacco portare varietà Quindi se continuate a supportare questo giorno di giochi Noi ne facciamo davvero 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 tantissimi Esatto E direi che si può partire Sì vai Allora In play Capitolo 1 Hold McDonald Ok 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 Ho capito Stef Che devi fare adesso? A che pare sempre le mucche? Difficitissimo Ok Sta piovendo Stef Le devi portare Ho visto che ha chiappo? Dai 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 che sarò perdi Quello Bravo Quello del discorso Per me non ho capito come ho vinto Io allora Stef Stanno succedendo cose troppo veloci Quindi non sto riuscendo a metabolizzare Tutto quello che sta succedendo in questo gioco Però sto capendo Eh però so Guarda come sparo bene le mucche Scusa una cosa Eh Abbiamo raccolto le mucche Ha salvato le mucche dalla tempesta E ora le stiamo sparando Perché secondo me le abbiamo rapite Ferri Era un uomo degli alieni Ah bene Ah hai ragione in effetti Eh non l'avevo collegato The Binding of Isaac Citazione totalmente Dobbiamo toglierli Toglierli mostri Sono mucche Ma è tutto sulle mucche Erano mucche Erano mucche Ok sono a quattro partite di fila che vinco E il capitolo 1 credo sia finito Ok Credo Sono confusissimo Non lo so Stef Beh avanti Capitolo 2 Ok Ok Bene Tutto a posto Hai perso Ok Geniale sta roba È stata genialissima Ok È fantastico Vai sta Stef Sì ma la dobbiamo giocare d'astuzia Perché vedi quanto è enorme lui E quanto sono piccolino io Però guarda È tutto rotto adesso Ce l'hai fatta Stef Tu hai preso giusto un pugnetto Ma va bene Dai va bene È andata grande Grande Escape Ah Era il pesce Penso di essere il pescatore No 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 Ragazzi Voglio più tempo Bisogna pensare pure degli schemi Non l'ho capito questo Che io Cioè che si doveva fare Aspetta Che rapisci le mucche Perché è così semplice Era lì la mucca Ma Ma io non ho capito Ce ne prendo una Ok Cioè ti fa fare Hai capito come funziona Il capitolo 2 Ha i giochi in più Più quelli che hai già fatto Sì Però con lo stesso montare di vite Perché io sono le quattro vite Sì Sì E quindi si è complicato Perché adesso se io sbaglio Ho soltanto una vita Perdo E il capitolo 2 Non l'abbiamo completato Eh no certo Però quando si tratta di sparare mucche Sono Troppo bravo Che fa più o meno Ne mi state tante Però va bene dai Ma Fere Perché la sensibilità È troppo bassa È quello Capisci E poi Con il controller Allora Consigliamo di usare il controller Mucca Mucca Aspiritata Via Mucca Mucca Ce l'abbiamo fatta Ok Ok Se giochini di fila Abbiamo soltanto un cuore E il capitolo 2 è andato Capitolo 3 Ok vai Uuuu Bellino questo Aspetta perché devo Dov'è? È lì l'ombra 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 Grande Fere Uuuu Bravissima Non me ne ero accorto Ti vedevo ancora Uuuu Schiaccia Ok Bello Dai lele che li facciamo tutti Guacamole Aspirito Cosa sei un martello Che deve schiacciare Ti fa chiave la d'alpa Ok Però con guacamole Vabbè Devi saltare Accidente Bisogna saltare lì Che cos'è quella roba rossa Non lo so Secondo me devi saltare Cioè è la cosa più sensata Quindi non lo so Lo so Lo so Però non ci riesco Bravissimo Continua a essere l'unico Che non posso fare Mi dà fastidissimo Qua mi devo riconcentrare Che prima mi ha distrutto Perché tu la devi Capito? Un po' fregare così Colpetto veloce E poi ti riallontani Veloce Perché stanno gli parte Il suo super pugno Capito? Esatto 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 Bisogna essere La rifugina Via 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 Ho pescatore Ma lo sa che sono un salmone Di quelli proprio Bellissimi Guardi guardi Non sono pesca Cos'eri? Un salmone Un bel salmone Aspetta Vai No questa non ho capito I tasti Cioè come funziona Se qualcuno mi spiega i tasti Lo accetto Ma se non mi dite i tasti È un casino per Steph Questo è vabbè Il più facile Cioè proprio Non c'è neanche il livello Secondo me Ho solo una vita Devo stare attentissimo Sei molto triste Sì Opla L'importante è finire il capitolo Però sai ci sono rimasto un po' male Soprattutto con il salmone Il salmone mi ha proprio messo tristezza No facciamo It's never over Vediamo chi fa di più Vai Va bene Ma io non sui tasti Non ho neanche provato Io usavo Non rompere L'analogico Non ti ascolto Ok questa volta ho capito Come funziona Te devi stare qua E anche quando lui ti lo continua Stare così E lo butti giù E lo butti giù E ora si che sono tornato Un bel salmone Ok uno Uuu Bellissima Bellissima Ma Scusa a posto Ok L'importante è vincere Non c'è frega nulla Se poi Non funziona Cos'è quella roba rossa Non è che devi andare nella striscia Che lui ti segna Può essere Quando è illuminata tu vai E quindi riesci poi a fare le cose Effettivamente è l'unica cosa che non ho mai provato Mi sembra strano che tu non l'abbia mai provato È un po' strano Già I giochini Quindi è strafanni Vediamo Oh questo c'è mai capitato Cosa tu Non so che devo Devi minare forse Senza Capito Senza esplodere con la dinamita Schivare la dinamita Comunque vedi tipo questo è solo analogico Capito Cioè sono semplici Non mi interessano i tuoi comandi Cerco di spiegartelo perché non voglio avere un vantaggio enorme Fede dai Bisogna essere equi qua No? No Uuu Bello questo Salta E vabbè pure Salta Non so come ho fatto Non lo so neanche io come ho fatto Ho sentito che c'era lo squalo Ho capito Ok L'ho percepito proprio Ok Bellino Molto carino Poi vabbè ragazzi se morivo col pirata Cambiamo vita Infatti Sono d'accordo Maledetto Oh Come? Oh Non mi sta avendo il panico perché mi ha schivato Dai Me lo ha dato Molto male Molto male Che rischio Come è noto giusto stavolta? Che dovevi fare? Oh finalmente scopri Premere a tantissimo Perché devi caricare per volare il più alto possibile Bullying nuovo Vai Va bene sì Cioè 8 di 10 raga non dovete No Dovevi fare strike Cattivissimo Mamma Questo che è? Di nuovo con le mucche È Flappy Bird con le mucche? No È Flappy Bird con le mucche Però sta ballando con i piretti Lo sai che le mucche Le puzzette Inquinano tantissimo Con le puzzette Lo so Più delle macchine Lo so Sono brutte persone le mucche Sono cattive Davvero brutte persone Dico io Contieniti Non farne così tante Se stai inquinando nel mondo In realtà è colpa del fatto che ne abbiamo fatto troppe mucche nel mondo Però Lo so però Sono detto di Non c'è bisogno di spiegare tuttora Ma ce la stai facendo? No Neanche un colpo È notato Ogni tanto vince Ogni tanto perde Finito 9 Secondo me mi puoi battere Mi sono capitati un sacco di giochini Che non avevo provato ancora Viene tutto giù E quindi mi ha messo in difficoltà Vai Non so come andrà Non so come andrà Questo è facile Miri e primi A Ok Quello non l'ho presa Con calma No tranquilla Ha fatto È easy questo Bastava? Sì sì È un po' strano No Qua kitty e dei pugni Via Brava Con calma Con più calma Più calma Ma è difficile Lo so Via Ti basta un altro pugno Con calma Ok Ma figurati chi è che mi batte sul campo Non iniziare Sul campo da box Allora vado E adesso Adesso devi usare l'analogico Vai E premi Porta volevo cambiare Potevi fare sinistra Volevo cambiare strano Perché non posso cambiare strano Spamà 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 Non è così allora Allora non l'ho capito Fai schifo Non l'ho capito Vai Questo è difficile Ok Ok Quella è velocissima Porca miseria Devi mirare verso dove va Vai Così bene Perfetto Andata Andata No quello Dello sciatore Impossibile Non ho ancora capito Ok questo Concentrate Scrive la dinamite Vai 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 Lo vedi C'errivi 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 Uh bello 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 Non l'avevo visto Dico la verità Ok Ormai tanto sai come si fa L'ombra Dov'è l'ombra Eccola Dai Easy questo Dai sì Basta che ti concentri un attimino Che bellina la grafica Troppo bellina Troppo troppo bellina Ok ci stanno Vabbè easy Perfetto Mamma mia ragazzi Ok Sei Io sono in 29 Eh cavolo Vabbè Cioè Mi hai preso 4 di 5 Con un colpo solo Stai nella linea Più su Ma no No impossibile Era uno dopo No non si capisce nulla È impossibile questo Eh ti ho detto che È come quello degli asciatori Ok Ok Quare vi premerà per saltare E rischiare gli squali Esatto Ok Perché avevo saltato Il pirata la frega È tarocco Il pirata la frega Lo sapevo Il joystick è rotto Allora ci fermiamo così Qua sotto compariranno Altri video Fateci sapere Con tantissimi like Se sondaggio Commenti Se volete vederci Continuare a fare Altri giochini Di questo genere Se magari vi piacerebbe Rivedere una sfida Su questo giochino Io mi sono divertito Davvero un sacco È semplice È semplice Ma carinissimo Proprio davvero davvero Rialtente L'abbiamo apprezzato un sacco Grazie mille per tutto il supporto E state dando a questi giochini E ci fermiamo così Ciao ciao